E con le acque del fiume Noce scorre anche la polemica politica scoppiata poche ore dopo l'incontro tenutosi domenica scorsa nella sala consigliare di Tortora. La riunione sarebbe dovuta servire per fare il punto della situazione sulle attività promosse dal Comitato per il fiume Noce, vista l'imminente udienza del processo a carico dei tre indagati per reati ambientali dopo il sequestro del depuratore Sito in località San Sago. Per il consigliere di minoranza di Tortora nel cuore Raffaele Papa è stata invece l'ennesima occasione per generare allarmismo, visto che non si è discusso dei progetti di sviluppo per il Noce che andrebbe considerato l'oro della valle. In questo modo l'intero territorio viene squalificato e la sua immagine ne esce, distrutta. Dichiarazioni che non sono date giù al consigliere di minoranza di Lago Negro, nonché componente del Comitato per il fiume Noce, Maria di Lascio, che ha risposto duramente a Papa. Negare che esiste l'emergenza Noce e l'emergenza mare, scrive la di Lascio, e terrorismo e oscurantismo e forse anche volontà di compiacere chi, allergico ai controlli e al rispetto delle regole, intende continuare a sversare nel fiume veleni e porcherie. Negare l'emergenza significa consentire al malfunzionamento dei depuratori. Risposta cui ha fatto seguito un aspro commento del capogruppo di TNC che dalla bacheca del suo profilo Facebook ha commentato un concentrato di cattiveria e bugie, dichiarazioni gravi che mirano a distorcere il mio pensiero e a screditare la mia persona. E alle parole di Papa ha fatto eco anche il segretario del PD di Tortora, Francesco Martino. La di Lascio, ha detto, si è prodigata a fare del bieco populismo dimostrando il suo disinteresse verso un problema che non è da sottovalutare e che non tocca minimamente gli interessi del comune che rappresenta. Di certo è riuscita ad immedesimare e personificare l'immagine da amministratore di scarsa preparazione civica e di una patetica preparazione politica. E la polemica, quindi, si infiamma, basteranno le acque del fiume per spegnerla?